Help me Io sto su Certo, quello lo sa su il vestamento Oh mannaggia Aiuto Che soffera mi sto qua sopra No Valerio tu non c'hai idea di quello che c'è stato là sopra Tu non c'hai idea, se stava un mob spawner l'addetto sicuro e altra roba Quindi le piccole scoperte che faccio Tante volte Eh? E' vero, non piccolo Guarda, tu stai tranquillo E anche tu No ci stanno i mini zombie con tu Non so, la vita di Cioè se il problema fosse da stare i mini zombie ok Ok Ok, vado Vieni A posto Grazie 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 mi sono rotta la spada beh buono no? si eeeh abbiamo amici qui occhio 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 non posso sfierci fermo siamo pazzi 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 dammi la mano però non sono niente come faccio mi aiuto non ci credo allora io sono una persona stupida perchè? stiamo combattendo contro dei mostri ok cosa ho fatto? ho avuto la bellissima idea di rompere il gioco dove c'erano i mostri e qui ci sono venuti addossi mostri dobbiamo fare quindi ok no ma siamo tutti qui ok perfetto chi ha trovato il libro incantato non c'è il nostro caro iphone però peccato ehm ok mi sono incassato con la po' ok mostriamo i lavori fatti la casa che è finita campo di grano che ti vuoi troppo perchè avete una spada con la tema 1 e la maspera sante non la toccare come l'ha fatta vai con fiamma po' po' allora la spada inferno con contacolpo me la fanno io però certo non toccare la cosa che mi uccide tanto legno mi serve allora io andrei in miniera però io comincio a fare io faccio un mob spawner e qui sotto abbiamo il tavolo dell'incentamento e tutta la roba con la varie cose e la scala fatta stranamente bene direi e vabbè pietra e gai fai c'è ulmo dov'è ulmo c'è un creeper non ulmo aiuto no 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 via allontana tira qualcosa cosa dicevo c'è un uomo che il cactus allora fa lei il nostro bello che hai dato che dovete lo farei tipo dove fare la cosa nei mob fuori il mob fuori non lo so non l'ignor aspetta la domanda un po' sono il mob fuori al portare a non mi ricordo anche per quanto deve essere grande sai neanch'io cacchio come si pensano per però c'è il fatto che da avere una scala che tappa sbatte con città testo mi sb la cosa veramente io credo che mi sta a casa sbattere mi sbatte proprio il cazzo sb all'abbiamo una buona 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 però voglio dare molto più in basso io e l'unico modo per andare in basso che al canale a 7 tt e quello di far esplodere da io ora che si va letto in un atterraggio morbido meglio allora perchè crafti c'è perchè in centinaia si per cadere a gioco e per buono c'è stato spero solo lo so buonissimo che buonissimo che lo so buonissimo che buonissimo ok io so dove gli annetti che avevo valerio mi ucciderà guarda loro che c'era qui che nessuno ha visto è più alto che ci fa un momento con loro per ora la mela la mia parola della mela che me la parola anche una l'obiettivo è fare la mela di noccia il nostro primo obiettivo cosa è un po' il probabile però va bene a qualsiasi cosa non dirà valerio che sono stato io non dirò 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 che sono stato io ho trovato un po' di ferro che può tornare comunque che è stato ah ok credo di aver fatto leggermente dei danni in miniera ce l'aggiungo ce l'abbiamo un libro incantato con fortuna e ce l'avevamo aspetta c'abbiamo la visualizzazione per incantare sono 18 in cesta ok ho un attimo incantare libri mi sarebbe fortunato allora dove vai in quale cesta sono a livello bedrock non ci sono i lapicelazzo del qua c'erano odio frittivo aereo boh come si avevano i lapicelazzo di bello come incanto eh questa è una bella domanda comunque come dicevo che mi sta fa sta sicara poi anche a miseria ma manco tanto è stato c'è stato di volare cimera detto le isole quali eri per il controllo su quale fai ci tante cose belle sì ma tu mi ha detto che questo qui è il bioma con le le isolotte volanti se ti ricordi ma non le ho ancora trovate e io me lo sono girato tanto bene questo è stato sì lo so non è il bioma ma il seme dice cioè le isole volanti vicino quindi mi sono alla pietola dove siamo spawnati ci stanno qua le cose e da l'altra parte le isole volanti allora magari nella stagione 2 ci andremo sicuro perché la dobbiamo fare c'è una bellissima base che poi vorrei che nella stagione 2 succederà una cosa imprevista che io già so e non vi dirò allora poi noi collegheremo qua collegheremo a questa base tutte le altre basi che faremo nelle stagioni sì ma ci sarà anche l'anderportal ci porterà direttamente in un altro mondo sì l'ho messo io alla mappa quella bellissima happy love volevo mettere un'altra cosa però ok anche quella farà a forza faremo quello che adesso poi anche a bando and mind che è una mappa che è ma guardate perché è bello qua c'è abbiamo un campo di patate fuori fanno belle le patate c'è un campo pieno abbiamo sì chi è il matto che le lascia quando le poi le ripianta l'oro noi io non l'ho mai potuto sei tu che l'hai potuto magari ora che ci penso neanche io mi squilla il telefono bellissima questa eccolo ho trovato del diamante bella la qui la nella qui tutto tutto cioè muoti nella lava fermo fermo fammi passare se vuoi vai what li sta raccogliendo però io no come no ok le ho presi vabbè sono vero l'ossidiana ne ho trovati 8 voglio l'ossidiana non lo devo più 8 diamanti freschi freschi mi aiuteranno a te fresh me lo ricordo io dove ero l'ossidiana forse oh oh aiuto 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 come si chiama l'immagine obsidian no non lo prenderò se non citare perchè hai citato vado a fare il portale 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 ok ho trovato di diamanti sono 8 diamanti e la dormire vengo a dormire ah ti devo dire una cosa importantissima e adesso te la dirò niente ciao adesso fai ma cosa ma no ma stiamo riccando sì ok stiamo già tornando sì e tu non lo dici adesso te l'ho detto ho fatto anche la intro con la tua diamante ti ho detto anche stai citando fai schifo allora poi non si chiama citare si chiama facilitare i compiti io ho 8 diamanti allora avendo 8 diamanti cosa mi posso fare con 8 diamanti? non mi bastano i diamanti a posto sono un coglione a posto il primo elemento della mia armatura è andato stai facendo impostare da neller? si ma non basso nei blocchi sei un genio allora ho anche mesi dopo carri tieni ne ho ne uno sono un coglione guarda come l'ho fatto vai scava mi sono preoccupato a fare cosa? a incantare i libri ti odio io non scavo proprio niente mi sto scherzando a rendita inisora a presto a presto a presto Grazie a tutti.